Ciao, come ti chiami? Pier Giorgio Furcas Che lavoro fai? Il Deputy General Manager in Huawei Italia, Divisione Consumer Business Group Ah, ma quindi sei il capo? No, no, non ancora Ci stai lavorando, dai Assolutamente sì Dove ci troviamo in questo momento? Adesso siamo a Barcellona Dove, di preciso? Alla fiera, alla fiera, al Mobile Worldwide Congress Senti, che giorno è oggi? Cappero, oggi è un lunedì La data non te la ricordi? 27 Che cosa avete presentato qui al Mobile World Congress? Fantastico, abbiamo presentato due modelli Il P10 e il P10 Plus Che sono i nostri nuovi flagship E non solo Piegami in 10 secondi perché dovrai comprare un P10 Cappero, 10 secondi Allora, fotocamera, riconoscimento 3D Facciale per quanto riguarda le fotografie e i selfie Processore è uno fra i più veloci Facciamo così, dai Dimmelo normale Senza i 10 secondi Il P10 e il P10 Plus sono due prodotti spettacolari Sia perché confermano il DNA di Huawei Che è quello appunto di migliorare sempre la parte della tecnologia del prodotto In particolar modo il processore La partnership con Leica Visto i risultati del P9 e P9 Plus Ottimi nel 2016 Ci ha dato la possibilità di poter continuare anche nel 2017 Quindi anche la parte della fotocamera è aumentata tantissimo Ma la cosa che mi preme particolarmente sottolineare Come dicevo prima Nei 10 secondi che poi non ci ho avuto È il design Il design penso che sia la dimostrazione Che Huawei sta facendo un passo in avanti Soprattutto per quanto riguarda lo stile e il riconoscimento di un prodotto premium Perché dovrei scegliere un vostro prodotto e non uno della concorrenza? Bisogna chiederlo alla concorrenza C'è ancora qualche pregiudizio sull'elettronica in arrivo dalla Cina? No, no, assolutamente no Huawei è la dimostrazione che oggi l'utente finale può tranquillamente comprare un prodotto cinese Sapendo che dietro c'è tanta tecnologia, tanto lavoro, tanto studio Ed è il motivo per cui uno dovrebbe comprare il nostro e non quello della concorrenza Perché oggi stiamo dando all'utente finale qualcosa di diverso Rispetto a quello che stanno offrendo gli altri È arrivato il momento di farmi vedere il telefono che usi Eccolo qua Un mega un P10 Assolutamente sì È da ieri, volevo usarlo anche prima ma non me lo facevano usare Il black, la versione black Eccolo qua Un po' più su Un po' più su Grazie Grazie di tutto Pier Giorgio e buon Mobile World Congress Facci un saluto però Ciao